L'Italia è un paese che sa fare molte cose con gente molto in gamba, però è vero pure che noi manchiamo di innovazione, questo corso rappresenta una vera innovazione, rappresenta innovazione perché unisce due obiettivi, quello di gestione dove diciamo la verità non siamo maestri, capita a tutti noi di andare in giro per il mondo e trovare piccole cose ma organizzate in maniera divina e noi siamo in Italia dove abbiamo grandi cose del tutto disorganizzate, quindi questo è un obiettivo, dare proprio quelle possibilità di gestione economico, finanziaria, le motivazioni, gli obiettivi a lungo, medio e corto raggio, cioè far capire come determinate attività debbano essere prima di tutto gestite bene per poter essere anche valide da un punto di vista funzionale, ma è chiaro che questo si accompagna anche ad un aggiornamento di livello tecnico. Oggi esiste un grosso gap nella realtà, abbiamo il medico, il medico si occupa prevalentemente di patologia, di malattia, abbiamo delle figure professionali importanti come le estetiste, qui però è vietato andare sulla patologia, abbiamo però un'opinione pubblica, abbiamo però tanta gente che cerca il benessere, il mantenimento del benessere, non c'è più il bisogno soltanto di guarire, c'è il bisogno di continuare a star bene, di migliorare la qualità della vita, ecco che questo è l'obiettivo tecnico di questo corso che noi ci proponiamo e in questo senso chiaramente lo rivolgiamo a tutti coloro che sono già un po' avanti perché è un vero e proprio, mi si passi il termine master, c'è qualcosa di impegnativo, di importante che presuppone già di avere delle conoscenze e quindi questo in prima battuta è rivolto a manager, imprenditori, liberi professionisti che più o meno già operano nel settore del wellness ma che vogliono fare anche di più. Il percorso formativo che abbiamo ideato prevede dei moduli comuni, cioè moduli che fanno bene per tutti coloro che vorranno frequentare quel corso, in più dei moduli specialistici, il modulo comune avrà come vedete prevalentemente un aspetto economico di management finanziario nonché chiaramente anche quelle necessarie competenze igienico-sanitarie di sicurezza. Ma poi abbiamo dei moduli specialistici proprio rivolti ai responsabili medici di determinati settori e poi abbiamo un settore del wellness che serve proprio a tutti coloro che portano avanti attraverso le tante attività connesse al wellness, dall'attività fisica ai percorsi nelle spa a tutto quello che ruota attorno a questo magico mondo. Però ci siamo anche resi conto di un'altra cosa che così facendo, voi sapete che l'università ha anche le sue leggi, i suoi vincoli, avremmo tagliato fuori una parte estremamente importante e significativa della nostra realtà sociale che sono le figure delle estetiste, coloro che quotidianamente trattano i problemi a prevalente carattere estetico di migliaia di persone e non solo donne. Oggi il wellness si raggiunge attraverso anche tecniche prettamente estetiche, vedi il massaggio, vedi l'applicazione di determinate apparecchiature, la figura professionale delle estetiste è una delle poche che è ben normata in Italia, esiste una legge specifica, non ci si può inventare estetiste. Allora vorremmo fare con il professor Cicchetti un primo modulo che è solo da tutti quelli che vi abbiamo già illustrato, questo modulo sarà proprio il modulo dell'estetica, un modulo che rivolgeremo in particolare e specialmente a chi è estetista e vuole acquisire questo doppio tipo di conoscenze in più di cui vi ho fatto cenno, cioè conoscenze sia manageriali gestionali ma anche avere un termini tecnici, un aggiornamento di quanto la medicina può offrire al substrato dell'estetica ma il gestore rimarrà l'estetista. Quindi è davvero un'innovazione soprattutto anche per chi si occupa di estetica perché gli permetterà di fare un corso comunque universitario che lo porterà ad acquisire notevole conoscenze. Vorrei far dire due parole a una delle due mie amiche, non a tutte e due, o a Silvia o a Daniela ma proprio due parole perché siamo in ritardo. Quindi vi prego di venire e darci un attimo il vostro contributo proprio per specificare che cosa ci si propone. Loro porteranno le loro conoscenze ma non abbiamo qui il tempo di parlare della metodica. Vogliamo soltanto sentirvi dire che cos'è che voi volete fare per contribuire a questo corso di aggiornamento per l'estetista. Grazie.